Welcome to the Game Day Plus Juventus Action! I campioni passano, la Juventus resta. Ma non possiamo non essere grati ad un campione che con le sue 93 presenze e 27 gol ha conquistato due Scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana che ci ha trascinato ad una finale di Champions League e che ci ha salutato con il gol decisivo nella scorsa finale di Team Cup. Al minuto 110 fa impazzire la Juventus, la Juve è in vantaggio, 1 a 0 sul Milan. Grazie a tutti, salvatito e buona suerte! Dimenticavo, Marcello, un saluto affettuoso e di cuore all'altro grande campione che ha lasciato la Juve. Lui. 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 Lui.